Anselmo Lamanna ha deciso questa mattina di non aspettare più le istituzioni ma di agire. Non è che mi sogno io le cose, ci sono i provvedimenti, Sassone risale a circa due anni fa, vedete, 2017. Una campagna elettorale barricadera, quella che sta portando avanti il candidato a sindaco con la civica Ariano Va Anselmo Lamanna. Questa mattina sotto gli occhi di carabinieri, polizia e vigili urbani ha spostato da sé alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti in località Cerreto, nei pressi della stazione di Ariano, rischiando una denuncia. Da tempo diversi cittadini ne chiedevano la rimozione in quanto poco igienici e collocati in un punto poco sicuro con violazione del codice della strada. Questa è una raccolta di firme dei abitanti del posto. Il comando della polizia municipale risponde a loro e al comune, sì, sulla base di quanto ho scritto può essere accolta, vedete, in grossetto, può essere accolta. Non lo dico io. Insomma ci vogliono due anni per rispondere ai cittadini sui loro diritti, penso proprio di no. Allora questa mattina, in assenza delle istituzioni, mi sono preso io l'incarico di eseguire questo. Vengono da fuori, ci sono furgoni, alla sera che nessuno li vede, scaricano, una puzza, incredibile. Buttano e chi li vede. Sul posto anche il capo dell'ufficio tecnico comunale, per il quale non si ravvisa alcuna emergenza, ma che allo stesso tempo sta valutando due diverse collocazioni per i cassonetti, compatibilmente con le proprietà dei privati e di ferrovie dello Stato. Da tempo, da anni che stiamo lavorando per sistemare questa situazione. Stiamo cercando un posto che non dia fastidio a tutti quanti i cittadini, monitorato. Con tutte le... però queste cose, per localizzare questi piccoli punti di raccolta stradali, la cosa è molto complicata. Questa è una strada provinciale, peraltro sta pulito. Io non vedo tutta questa... Per la sicurezza stradale, insomma, è una strada, sì, anche provinciale, però stanno lateralmente. Lateralmente.